Partita con 8 milioni di spesa e altre risorse ricevute da assessorati regionali come quello del turismo che fa capo al presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli, ma che risultano difficili da quantificare secondo la Corte dei Conti, come raccontato dalla consigliere del PD Marche, Michela Vitri. ATIM, l'ente partecipato di promozione turistica delle Marche, si ritrova così al centro di uno scandalo di affidamenti dove il PD chiede chiarezza e trasparenza alla regione. ATIM è l'agenzia turismo e internazionalizzazione delle Marche nata per esplicita volontà del presidente Acquaroli che è anche assessore al turismo il 7 dicembre del 2021. Da allora in poi come ha lavorato ATIM? Con una serie di affidi diretti, ha fatto solo affidi diretti. Poteva farlo? Non poteva farlo? Noi crediamo di no, molti avvocati ci dicono di no, ma a prescindere da questo l'abbiamo sempre definito un carrozzone politico. In queste ultime settimane però ci siamo accorti che forse c'è anche qualcosa di più e ad accendere il campanello d'allarme è stata la Corte dei Conti perché i giudici nella loro relazione della parifica qualche settimana fa scrivono esattamente che la condotta di ATIM è elusiva dei principi di veridicità, trasparenza, correttezza. E quindi siamo andati a verificare questi affidi diretti e ancora una volta come ha detto ATIM c'è un coacervo di indirizzi, atti, inestricabile che passa dall'assessorato al turismo della regione Marche ad ATIM e viceversa, tanto da non capire nemmeno chi chiede, chi paga, chi fa cosa. E in effetti ci siamo resi conto che in questi anni a DATI non ha quasi lavorato nessuno, per questo siamo andati nei loro uffici a vedere diverse volte e non c'era mai nessuno, le scrivani erano sempre vuote. Eppure lì, secondo Acquaroli, dovevano lavorarci 12 persone. Alla Corte dei Conti hanno risposto che 4 stavano negli uffici che sono al quarto piano della Camera di Commercio ad Ancona, dove pagano 170 mila euro d'affitto e invece nessuno. Cos'è quindi ATIM? Una scatola vuota per fare affidi diretti probabilmente. Questi affidi diretti sono quasi tutti, parecchi, sopra soglia, sopra i 140 mila euro. Ce ne sono alcuni, uno degli ultimi, 366 mila euro per una mostra a Roma. Cosa porta alle Marche? Non lo sappiamo. Ce ne sono tanti, su cui invito anche voi a controllare e a verificare, perché alcuni sono curiosi. Una stessa società che fa promozione e valorizzazione a Roma è stata pagata 80 mila euro per fare la promozione di un evento a Gabiccia e identica società con la stessa sede, nello stesso numero civico, lo stesso amministratore per fare la stessa attività, altre 50 mila euro. Ma non solo, in questo momento a Parigi, una fiera a Parigi e la fiera dei camper a Parma sono affidate a società romane. Le Marche partecipano a Parigi e a Parma affidando l'allestimento a società romane. Cosa rimane nelle Marche alle nostre attività economiche e produttive? Non ci sono bandi, non ci sono richieste di manifestazione di interesse. Quindi qual era la vera funzione di ATIM? Ora ce lo stiamo chiedendo davvero e per questo ho presentato un'interrogazione a cui Acquaroli dovrà rispondere mostrandoci tutti gli affidi diretti, ma non solo. In Consiglio regionale, come gruppo PD consigliare, chiediamo una commissione d'inchiesta e chiediamo le dimissioni di Acquaroli da assessore al turismo.